Il noto presentatore Angelo Zecchino Showman ha inaugurato la presenza di amici e parenti il suo primo punto vendita di prodotti alimentari di qualità al centro del gusto. Un'inaugurazione in grande stile, bande musicali, modelle e in più ospite d'eccezione Mark Caltagirone. Un punto vendita ubicato in pieno centro in piazza Vittorio Emanuele 31, nuovo, moderno e di qualità. Specializzato nella vendita di prodotti alimentari e da forno, tutto Made in Italy, anzi madre la terza. Sulla tua tavola potrai avere prodotti dal sapore autentico grazie all'attenta scelta curata direttamente dal nostro Angelo. Al centro del gusto sarà un valore aggiunto alla tua tavola, il tuo punto di riferimento, l'eccellenza per gli amanti del buon cibo e dei prodotti tipici del territorio, focacce, panini, pane, latticini e salumi di alta qualità. Al centro del gusto si trova la terza in piazza Vittorio Emanuele 31, non perdere tempo, Angelo ti aspetta. E allora mentre gli amici della street band suonano fuori, noi vogliamo ringraziare grazie all'intervento anche di Maria Carmela con le telecamere di Just TV, tutti coloro che sono accorsi numerosissimi, anche incuriositi dalla presenza del nostro ospite che poi magari rivedrete tante e tante volte grazie alla mia amica Maria Carmela. Mark Caltagirone è stato qui questa sera dove non è riuscita Barbara Durso, siamo riusciti noi dello staff di Al centro del gusto. Da domani mattina operativissimi, piazza Vittorio Emanuele numero 31 con tantissime novità. Ci si divertirà facendo la spesa? Vinceranno un sacco di premi, abbiamo un registratore di cassa che quantomeno te l'aspetti impazzirà. Siamo punto vendita dei panifici Costantino, siamo punto vendita ufficiale del caseificio Moschetti, abbiamo un'area riservata a Matera, capitale della cultura, ringrazio la mia amica Sara Perrone, i panifici Perrone storici di Matera. Insomma abbiamo tutto, magari poi Maria Carmela vi farà anche una panoramica dei prodotti che potete trovare qua, non so se si può fare perché quella è pubblicità occulta, ma due passi e siete qui al centro del gusto. Ciao! Peace!